Tutto un... perché loro hanno un... ...hanno un... ...hanno un... ...vai tirani, poi si viettano. E' un'altra cosa, mi pensavo, è un'altra cosa che sta facendo dei cambi. A Borgia era tutto uno stato di calda marazzi, ha stato compagato da una bicicletta. Alle 6 del mattino, c'era una volta il bambino, alle 6 del mattino. Non so, le astra. Grazie.